Buonasera e bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi Versilia. Oltre un mese e mezzo fa il tragico incidente in Darsena e Viareggio in una notte di carnevale costò la vita ad Andrea Lucchesi, il giovanissimo lucchese. Oggi i genitori e i familiari sollevano una protesta e chiedono al giudice di ripensarci. Sapete, alcune settimane fa è stato autorizzato colui che è accusato di omicidio stradale di tornare a lavorare. Decisione contestata, così hanno deciso di intraprendere un'azione i familiari che risiedono a Lucca. Sentiamo il nostro primo servizio. Avevano espresso sin da subito il loro sgomento e disappunto per quella decisione del giudice che permetteva all'investitore di loro figlio di godere del regime di semilibertà per potersi recare al lavoro. I genitori di Andrea Lucchesi, investito in Darsena la notte del 4 febbraio insieme ad un amico e deceduto quasi immediatamente, non si danno pace. Il giudice ha deciso che l'investitore Antonio Caturano potrà recarsi al lavoro, motivando la scelta come importante per il percorso di recupero del giovane. Ma i genitori di Andrea questa decisione l'hanno criticata sin da subito e con loro anche molti dei clienti del distributore esso che gestiscono e dove lo stesso Andrea lavorava. Tanto che alcuni di essi hanno deciso di organizzare una raccolta di firme per chiedere che la decisione venga rivista. E' quella di fare una raccolta di firme di tutti quelli che vogliono aderire naturalmente per protestare contro questa decisione che non la riteniamo giusta. Tutti quando faccio vedere quello che firmano subito, immediatamente, sono d'accordissimo tutti quelli che ho sentito fino adesso. Pensiamo, non so, una quindicina di giorni di fare questa raccolta. La cronaca agli agenti di una volante del commissariato di polizia di Forte Remarmi hanno arrestato la notte scorsa intorno alle due in via Olmi, in Vaiana, a Forte Remarmi, due ventenni pratesi di origini albanesi che avevano rubato due biciclette elettriche dal giardino di un'abitazione. Quando gli agenti li hanno fermati hanno dichiarato di essere venuti da Prato in bicicletta, ma quando i poliziotti hanno notato degli adesivi di Forte Remarmi sulle bici li hanno portati in commissariato e dopo gli accertamenti è risultato appunto che i due mezzi erano stati rubati e così sono stati arrestati. In tribunale a Lucca sono stati condannati a due anni con pena sospesa e moniti del foglio di via dai comuni versiliesi per due anni. E' una piccola rivoluzione quella del sistema del trasporto via taxi a Viereggio e nel resto della Versilia nuove offerte e anche nuovi servizi per combattere la concorrenza. Il restyling del servizio radio taxi presentato questa mattina. Sentiamo. Il servizio radio taxi di Viereggio mette il turbo e lancia nuovi servizi e prezzi ad hoc per le varie categorie di clienti. Un restyling che punta a riconquistare i versiliesi e i turisti all'indomani del potenziamento digitale delle prenotazioni delle corse. Si parte con taxi rosa per le donne che viaggiano da sole con il 10% di sconto su tutte le corse notturne dalle 20 alle 6 e assistenza dell'operatore per arrivare a destinazione sane e salve. Taxi over 65 valida H24 per tutti gli anziani. Taxi scuola per accompagnare in classe fino a 6 studenti al prezzo di un'unica corsa. E taxi forever per chi si sposta spesso all'interno del proprio comune e che potrà beneficiare di corse gratuite. Prezzi fissi e sconti fino a 15 euro sulle tratte per restare competitivi sul mercato. Per la città è assolutamente importante avere un servizio di radio taxi efficiente, moderno e che si rivolga a certe categorie come stanno facendo. Proprio perché la città è una città a orientamento turistico e un servizio di trasporto del turista e comunque anche del cittadino. Lo spostamento da un'area all'altra della città è fondamentale che sia al massimo dell'efficienza. Ma sullo sfondo resta un tema quello di unificare il servizio taxi per tutta la Versilia che adesso corre divisa. Ci provano le categorie, ci provano i tassisti, lo chiedono gli albergatori, ci provano anche le amministrazioni. Sentiamo. È possibile arrivare a un coordinamento se non addirittura ad un'unificazione del servizio taxi in Versilia anche per combattere le altre forme di concorrenza e essere più competitivi? Questo è il progetto al quale stiamo lavorando già da diverso tempo. Abbiamo già contattato le altre strutture radio taxi presenti sul territorio per avere un tavolo di incontro e cercare di trovare un accordo tra noi che porti benefici a tutta la categoria e di conseguenza anche a tutti i turisti che frequentano le nostre zone. Sono 30 i taxi attivi nella sola a Viareggio, il gruppo principale dei tre presenti in Versilia dove in tutto si raggiungono poco meno di 60 auto eppure ad oggi ancora non si è riusciti ad unificare il servizio eliminando inefficienze che spesso disorientano gli utenti. L'Unione fa la forza, ripetono oggi i tassisti viareggini, che devono già combattere con la concorrenza degli NCC i noleggi con conducente, offerti dagli hotelli e dai bagni ai clienti e soprattutto con i fenomeni di abusivismo difficili da individuare e da arginare. Qualche abusivo, chiamiamolo così, che si infiltra tra i locali, su Viareggio e anche sulle altre zone della Versilia e questo per noi diventa la guerra dei poveri. Una sfida lanciata dalla categoria è già allo studio dell'osservatorio turistico di destinazione dell'Unione dei Comuni della Versilia. Molti operatori economici, in particolare albergatori e balneari, ci hanno chiesto di accendere un faro sull'organizzazione dei servizi dei tassisti. Un'occasione come questa, una progettualità di questo tipo, è una prima ed efficace risposta a quelle che sono le istanze degli albergatori. Poi è chiaro che va fatto un ragionamento per unificare un po' l'organizzazione del mondo dei tassisti da un lato, mettendo sul piatto tutti i comuni insieme, invece la possibilità di una gestione comprensoriale, convenzionata quindi fra comuni, di tutta l'utenza dei taxi in Versilia. Oltre 30 sacchi di rifiuti sono stati raccolti oggi nella pineta di Levante a Viareggio, nella zona dello stadio dei Pini, da parte di un gruppo di volontari. Rifiuti di ogni genere, come vedete da queste immagini che ci hanno inviato, sono stati ritrovati in mezzo al verde, non solo sacchetti ma anche materassi, batterie, bombolette, tutto abbandonato sul posto da mesi, addirittura da anni. Il gruppo di attivisti ha setacciato la zona e raccolto tutto in questi grandi sacchi. Sarà a SEA nelle prossime ore a ritirare il materiale raccolto. Si tratta della seconda iniziativa del genere, promossa dal Comitato per la salvaguardia della pineta. Una prima raccolta è stata eseguita un mese fa con lo stesso risultato, anche in quel caso decine e decine di sacchi di rifiuti abbandonati in mezzo al verde. E sulle spiagge, in questo caso di Marina di Pietrasanta, già smaltite 770 tonnellate di lavarone. È in corso, infatti, fa sapere il Comune, la pulizia straordinaria dell'Arenile in vista delle festività pasquali. Un impegno non indifferente per l'ente comunale. Restano da portare via ancora 400 tonnellate. L'intervento, assicura l'amministrazione commissariale, sarà ultimato nei prossimi giorni. Il 30%, ricordiamo, degli stabilimenti balneari di Marina di Pietrasanta, ha scelto di aprire per le festività pasquali. Ci spostiamo a Camaiore, adesso, dove ha cambiato volto via Roma, strada residenziale tradizionalmente, anzi da sempre, alberata, ma questi tilli sono stati in larga parte abbattuti. I lavori sono stati conclusi proprio in queste ore. Vediamo. Via Roma è finalmente in sicurezza, un po' spoglia, ma sicura. Si sono conclusi in queste ore i lavori per la rimozione dei tigli pericolanti e la piantumazione dei nuovi nella bella strada residenziale alle porte del centro storico di Camaiore. Il taglio massiccio delle alberature ha fatto tanto discutere per settimane i camaioresi, affezionati ai due filari alberati in mezzo alle villette e che adesso dovranno abituarsi a tutt'altro scenario per diversi anni. Ma l'abbattimento delle piante pericolose non poteva essere rimandato e anzi, ricordano dal comune, doveva essere fatto prima. Gran parte delle piante presenti su quel viale erano malate, erano un estremo pericolo sia per le abitazioni adiacenti a quel viale, sia per chi con l'automobile o i pedoni che percorrevano quella strada. Quindi, malgrado l'aspetto estetico che chiaramente per qualche anno dovremmo attendere per riaverle come erano prima, abbiamo dovuto agire potando parte di quelle piante, tagliandone alcune e sostituendole praticamente quasi tutte. Finalmente una strada sicura, quello che ci chiedeva la gente da tanto tempo e presto sarà altrettanto bella con piante nuove, con piante non malate. Abbiamo potato circa 130 piante, sempre sotto l'ausilio di Lunardini Francesco, l'agronomo, di cui 70 sono state cippate e una settantina sono state invece fresate. Si sono sostituite con nuove alberature, sono complessivamente, ne abbiamo piantati 108, 108 su tutto il territorio, destra e sinistra, dal lato di via Roma. A Massarosa via libera i nuovi insediamenti produttivi nell'area industriale di Montramito. Sentiamo Massimo Mazzolini. Il Consiglio Comunale di Massarosa, con voto unanime, ha adottato la variante al piano strutturale, la variante al regolamento urbanistico, relative alle aree di trasformazione poste all'interno della zona artigianale e industriale di Montramito. Procedure più semplici e maggiore sostenibilità economica per chi vuole realizzare nuovi insediamenti produttivi. Abbiamo adottato due varianti, una al piano strutturale e una al regolamento urbanistico per cercare di rendere economicamente più sostenibili questi interventi. Siamo andati a suddividere queste aree, vaste aree, in subcomparti, quindi si dà la possibilità ai proprietari di partire anche con lotti funzionali, quindi con permessi a costruire convenzionati possono dividere queste aree e partire singolarmente. Si tratta di tre piani attuativi che abbiamo recuperato grazie al decreto del fare del 2015. Non erano ancora partite fino ad oggi perché conosciamo le problematiche idrauliche di quell'area che siamo riusciti in parte a superare grazie agli interventi, quindi le casse di laminazione sopra la Sarzanese e le agginature sulla Gora di Stiava. Poi il tavolo tecnico, diciamo, Coglienti ha consentito di derogare a queste prescrizioni dell'autorità di Bascina e quindi adesso possono partire. L'amministrazione Mungai crede molto sullo sviluppo di quest'area, sulle sue potenzialità e sulla possibilità che in essa si insedino nuove realtà produttive che creino economia e posti di lavoro. Viareggio festeggia la ricorrenza della Santissima Annunziata con la tradizionale Fiera e Festa dei Ciottorini. La tradizione si ripete puntuale da lontano 1974. A Viareggio, in occasione delle celebrazioni della patrona, la Santissima Annunziata viene festeggiata con la Fiera dei Ciottorini, prevista quest'anno fino a domenica 25 marzo. Nella piazzetta vicino alla Torre Matilde, il Comitato Vecchia Viareggio propone come da tradizione una serie di divertenti iniziative che richiamano centinaia e centinaia di bambini. In programma stand gastronomici, stand con oggettistica in ceramica, tra cui si possono trovare i fischietti in terracotta e i famosi ciottorini, i piccoli utensili in terracotta che i bambini disegnano e pitturano, oltre a stand per associazioni di volontariato. È il 45esimo anno della nostra tradizione, quest'anno fra l'altro abbiamo fatto anche delle cose innovative come la libreria nella Torre Matilde, che la gente è molto contenta quando entra nel nostro monumento della città. Poi abbiamo tanti artigiani che fanno dal vivo i bassini di ceramica dal vivo, ci sono i giochi, i divertimenti per i ragazzi, le nostre classiche torte, il nostro ciottorino che è quello, diciamo, il massimo che si può avere. La cultura adesso, un grande rilancio per il premio letterario Massarosa attraverso il Salone Internazionale del Libro di Torino e anche una vera e propria statuetta per i vincitori. Sentiamo. È stata presentata oggi con importanti novità l'edizione 2018 del premio letterario Massarosa. A illustrare le innovazioni è stato lo stesso sindaco Mungai con la consigliera delegata alla cultura Linda Frati. L'amministrazione comunale ha deciso di rilanciare il premio attraverso una serie di interventi tesi a rafforzarne il ruolo nazionale e contemporaneamente le sinergie con il territorio. Il primo vedrà la presenza del premio massarosiese in uno stand della Regione Toscana al Salone Internazionale del Libro a Torino. L'idea ci è venuta da quando abbiamo cominciato a collaborare con la scuola Olden, quella di Baricco, che poi tra l'altro è in qualche modo coinvolta col Salone di Torino. Poi abbiamo verificato che la Regione Toscana ha uno stand al Salone di Torino. Ci siamo messi in contatto con la presidenza del Consiglio regionale la quale ci ha detto che avrebbe agevolato questa nostra presenza. La seconda novità è stata ufficializzata stamani nella sala consigliare dove il primo cittadino, la consigliera delegata alla cultura e la fondazione Pomara Scibetta, che sostiene l'arte, hanno siglato il protocollo d'intesa che vedrà realizzare una scultura di piccolo formato destinata a rappresentare il premio che sarà consegnata ai vincitori delle future edizioni. Il Massarosa, per la sua storia e la sua originalità, è un patrimonio di grande valore culturale, ha commentato Giuseppe Sciabetta, e il nostro obiettivo è quello di valorizzarlo al meglio. Come si parla degli Oscar quando si parla della cinematografia, il premio metterario Massarosa avrà una statuetta che ha interesse a presentare un'opera d'arte di piccole dimensioni, perché si parla di statuette di 25 centimetri, in marmo o in bronzo, possono poi presentare il bozzetto. Ci fermiamo con la cronaca, tra poco di nuovo insieme con un'ampia pagina sportiva. Tra poco. Ben ritrovati, siamo alla pagina sportiva. In primo piano non può che esserci il rally della Valle del Serchio, il rally del Ciocco che è partito da Forte dei Marmi venerdì sera con un grande spettacolo. In attesa di averlo reso conto del tagliato della giornata di sabato, partiamo con le immagini per vedere come è andata la serata di apertura sul lungomare Forte Marmino. Una bella giornata di sole con un primo assaggio di quasi primavera per l'abbrivio del 41esimo rally del Ciocco e della Valle del Serchio. È la prova speciale spettacolo di Forte dei Marmi ad aprire infatti le danze, potremmo chiamarle anche ostilità, 302 equipaggi iscritti, compresa la nutrita pattuglia del campionato regionale. Formula inedita, con sfida a 2, lungo i 2 chilometri e 250 metri del tracciato Forte Marmino. Alle 17.34 sono Rachele, Somaschini e Roberto Marchetti a dare il via duelli fino al clou fissato alle 18.30 quando entrano in scena in Mamma Santissima del Cir, nonché grandi favoriti per il titolo tricolore 2018. Prima Campedelli contro Crugnola e 5 minuti più tardi addirittura Andreucci contro Scandola. Conta naturalmente chi stacca il miglior tempo, ma tutto è davvero molto spettacolare e godibile, anche per il folto pubblico presente. Campedelli è un fulmine, stacca il miglior tempo rifilando 6 secondi a rampante Crugnola. Il Cesenate dimostra subito di essere velocissimo. Subito dopo il colpo di scena di giornata, Andreucci e Andreussi accoppiati a Scandola partono con lo sportello del lato copilota aperto. Ad un certo punto la Peugeot finisce contro il New Jersey, che procura la rottura del fanale anteriore sinistro. Nonostante ciò, il dieci volte campione italiano accusa solo 3 secondi e 3 di ritardo da Campedelli e batte Scandola di 4 decimi. Ma il siciliano Andrea Nucita su Hyundai a sorprendere tutti e con 2.09.3 a far segnare il miglior tempo di giornata. Bene anche Rudy Michelini a 5.3 dal capofila. Terzo tempo provvisorio del giapponese Cazzuta sarà poi scavalcato dal connazionale Rai, che supera Andreucci, mentre l'altro lucchese Luca Panzani chiude a 6 secondi da Nucita. Non male. E c'è grande soddisfazione a Forte Le Marmi da parte del Comune e dell'amministrazione comunale, che fa un bilancio positivo di questa edizione della prova di partenza del Rally del Ciocco. Bilancio positivo per l'affluenza di pubblico, per la promozione televisiva e soprattutto per il coinvolgimento della cittadinanza, ma anche il lavoro per bar, ristoranti e alberghi della zona. Oggi però purtroppo è una giornata di lutto per lo sport versiliese. Forte Marmino in particolare si aspetta infatti Mario Carducci, figura storica conosciutissima da tutti i Forte Marmini, per una vita custode del campo sportivo dello stadio Necchi e Balloni di via 20 Settembre, legato anche al tifo dell'Hockey Forte Le Marmi. Arriva il cordoglio da parte della società Rosso Blu, del VHF e dell'Hockey Forte. È il momento del dolore di stringersi in un virtuale abbraccio con i figli Alessandro, esponente di spicco del VHF e del tifo Rosso Blu, i figli Riccardo e Roberto, e alla famiglia a cui vanno le condolianze dell'Hockey Forte Marmino. Arriva un messaggio di cordoglio anche da parte del sindaco Bruno Murzi. Il calcio adesso, veniamo alla Viareggio Cup, designata dunque la classifica per le semifinali in programma lunedì per le battute finali di questa settantesima edizione. Sentiamo. Emozioni per i verdetti dei quarti di finale della Viareggio Cup. In una giornata per lo più avara di gol a fare alla padrone è stata l'attenzione. Tutte le sfide in programma si sono risolte sul filo di lana e in un caso sono stati necessari addirittura i calci di rigore. Allo stadio dei pini di Viareggio l'Inter ha piegato il Genova solo in pieno recupero, scongiurando una lotteria dei rigori a cui la maggior parte dei presenti avevano già fatto la bocca. Risultata occhiali tra Venezia e Parma al Florenza di Larderella. I rigori l'hanno spuntata i ducali che ritroveranno l'Inter già affrontata nel girone 1-0 per i nerazzurri. Nel segno di Cule Novice, capo canoniere del torneo con 6 reti al comunale di Alto Pascio, la Juventus ha vendicato lo scontro nel girone con il Rieca, quando i bianconeri acciuffarono il pari 2-2 solo nel recupero, vincendo di misura e approdando così in semifinale dove i bianconeri troveranno la Fiorentina che al ferdeghini di La Spezza nella partita più animata dei quarti ha superato il campione in carica del Sassuolo. Risultati finali Inter-Genova 1-0, Rieca-Juventus 0-1, Vicenza-Parma 3-0 dopo i calci di rigore 0-0 nei minuti regolamentali, Fiorentina-Sassuolo 3-2. Adesso la Coppa si ferma per questo fine settimana, si riparte lunedì con le semifinali in programma Juventus-Fiorentina alle ore 15 allo Stadio dei Pini, mentre Inter-Parma si gioca alla Spezza alle ore 17. E veniamo al campionato di Serie D in programma per questo domenica. Per il campionato di Serie D il Viareggio va sul campo dell'Argentina domenica con le assenze di Lucarelli e Dinelli per infortuni e minichino influenzato. Mister Bresciani è costretto a retrocedere nel ruolo di Terzino Mattei, inserendo a centrocampo Rustichelli arrivato dal Sesti Levante la settimana scorsa. La dirigenza all'altra sera è stata a cena al ristorante Basilico Frescatore del Lago con gli Angeli del Viareggio, un gruppo di appassionati che stanno dando una mano alla società sia per questa stagione con l'intento di poter allargare il numero dei dirigenti anche per la prossima. Allo stadio Necchi Balloni, il Real Forte Querceta riceve lo Scandicci, terzo ultimo in classifica, e Mister Buglio confida nella conquista di tre punti dopo il pareggio a Sesti Levante ottenuto con Togliarelli nel finale della partita, evitando così una sconfitta. Mancherà Biagini per squalifica, rientra però Falchini. Il Seravezza Pozzi dopo il 2-0 alla Ravagnese che ha rialzato le ambizioni play-off va a finale contro un avversario che può essere battibile in modo da compiere un altro passo in avanti in classifica. Rientrano dalle squalifiche Bondielli e Rodrigues. Il Ghibiborghe è ospite della capolista Ponzacco, intenzionata ad incamerare punti, che dal derby Savona-Sarremese spera che giungano buone notizie. Il Ghibiborghe reduce dal 2-2 con il finale, cerca di potersi togliere definitivamente dalla zona rischio play-out. La gara assume così una importanza notevole. Ancora per il calcio, la seconda categoria con il successo della Torre Laghese che in questo turno di recupero di sabato ha battuto 1-0 il Phil Villa, golla di Passaglie, dunque matematicamente promossa in prima categoria. Dunque grande festa per la società Torre Laghese. Arrivano i complimenti anche dal consigliere delegato allo sport, Rodolfo Salemi. Nel servizio adesso sentiamo anche il punto sulle altre squadre di seconda categoria. Con i campionati dilettanti fermi in occasione delle festività e dei tornei, l'unico torneo che gioca a livello dilettante della Serie D, ci sono stati diversi recuperi. Tra questo quello che ha visto di fronte nel campionato di seconda categoria con le immagini di mondo calcio. Versiglia seguiamo Atletico Forte del Ami, Lido di Camaiore, vinto dai Forte Malmini per 3-2 che consentono alla squadra di raggiungere la seconda posizione in classifica appaiato all'Atletico Carara dietro la Torre Laghese. L'Atletico Forte, come detto, ha superato nel derby Lido di Camaiore per 3-2 grazie alla doppietta di Giacomo Tedeschi, poi al gol di Lossi, mentre per la formazione di Fabrizio Monga sono andati in gol Manfredi e Signorini. Una partita tirata fino alla fine, ma che alla fine ha visto, come detto, spuntarla l'Atletico Forte che conquista il secondo posto. L'Unione Chiesa ha battuto il Miglialino 2-0, il Montignoso è stato sconfitto dal Corsanico 5-1 mentre il Bozzano gioca con il Tau Calcio domenica pomeriggio alle 15. E sempre per il calcio, in terza categoria vediamo i risultati di questa giornata. Si parte con Porcari Atletico Viareggio 2-1, Marginone Azzurra 1-2, Don Bosco Mazzola San Macario 0-1, Montagna Seravezzina Retiniano 1-2, Montuolo Nave Sporting Viareggio 0-0, Spianate Piano di Conca 0-2, Trasporting Forte e San Salvatore Montecarlo 3-0. Classifica di terza categoria ancora guidata dallo Sporting Forte Remarmi con 63 punti, segue lo Sporting Viareggio con 54 punti e poi a distanza vediamo le altre squadre. Nel Girone di Massa, Trasporting Pietrasante e San Vitale finita 4-0 per i versiliesi. Prima di chiudere c'è spazio per una notizia di nuoto. Hanno ben figurato i ragazzi di Massarosa al campionato regionale primaverile svoltosi a Livorno, dove hanno conquistato un primo posto nei 50 rana femminili con l'undicenne Giulia Spina. Hanno superato le selezioni per la partecipazione, anche sei ragazzi dell'Acquatica che si allenano nella piscina di Massarosa, sotto la guida dell'allenatrice Bertolaccini. Buoni piazzamenti anche per Aurora Cricchio, Emma Corsi, Matteo Gimignani, Fabio Biancalanes, Saverio Albizzi, all'allenatrice, gli atleti e ai dirigenti di Acquatica. Il consigliere delegato allo Sport, Raffaello Giannini, ha inviato le congratulazioni dell'amministrazione per gli ottimi risultati. È tutto davvero per lo Sport, tra poco di nuovo insieme per gli eventuali aggiornamenti. Eccoci di nuovo insieme, terza parte del nostro telegiornale. Non abbiamo aggiornamenti di cronaca. Prima di salutarci non ci resta che fare gli auguri, come sempre. Questa sera gli auguri vanno ad un collega, Giovanni Lorenzini, di Lido di Camaiore, giornalista per molti anni alla Nazione. Auguri da parte dei familiari, degli amici e dei colleghi. Auguri anche ad un altro collega giornalista, Marco Pomella, Romano, ma ormai di Massarosa, per adozione. Oggi festeggia gli anni. Auguri da parte degli amici e ovviamente da parte dello staff di Noi TV. È tutto davvero per questa edizione. Vi ringrazio per essere stati con noi. Vi auguro una buona serata. Grazie. Grazie.